E torniamo ad occuparci dello scenario della guerra in Ucraina, siamo nel vivo della seconda fase del conflitto e la strada per la pace sembra essere ancora molto lontana, anzi tortuosa direi. Nel frattempo l'Unione Europea si è spaccata sul tema dell'embargo del petrolio russo, crepe naturalmente che si installano anche all'interno del nostro governo sul tema dell'invio delle armi pesanti a Kiev. Insomma una questione che oggi sembra essere molto complicata, diventa anzi sempre più complessa e che oggi raccommenteremo in compagnia del professor Sergio Imparato, docente di filosofia politica ma anche di politica estera americana presso la Harvard University. Buongiorno professore, grazie di essere qui con quest'oggi. Per commentare appunto lo scenario bellico, abbiamo scavallato addirittura il 70esimo giorno dall'inizio del conflitto, in Ucraina i tentativi di pace sono stati tanti ma purtroppo dobbiamo anche dire gli stessi sono stati purtroppo molto vani. Kiev continua a resistere però le forze russe sono ancora lì presenti e dopo il 9 maggio ci sia il timore che possa accadere di qualcosa ancora più nefasto, qualcosa di davvero molto più concreto. La strada per la pace anche per lei sembra essere veramente ancora molto molto lontana e lunga? Purtroppo sì, innanzitutto grazie per l'invito, sono felice di essere qui con voi. Purtroppo sì, la strada per la pace sembra ancora difficile, soprattutto perché le operazioni militari sono in una fase di relativo stallo e quindi da entrambe le parti non ci sono avanzamenti di tipo strategico che possono condurre i negoziati in una posizione favorevole. Il fenomeno di disunione da parte degli alleati degli Stati Uniti, del problema delle sanzioni da parte dell'Unione Europea è un ulteriore elemento che potrebbe prolungare la guerra purtroppo. Quindi paradossalmente le sanzioni portano ad allungare, non ad anticipare le trattative? Le sanzioni in generale funzionano poco, non sono uno strumento particolarmente efficace per porre fine a una guerra. Quando funzionano, le rare volte che funzionano, c'è bisogno di grande unione, grande fermezza e purtroppo quello che sta succedendo in Europa non è esattamente unione e fermezza. Quindi c'è il rischio che le sanzioni possano, o delle sanzioni in qualche modo non efficaci, possano prolungare la guerra. Sollecitare con la cessazione del fuoco. Senta, in questi mesi direttamente coinvolti sono stati gli Stati Uniti, con la posizione intransigente, un po' dura, anche di Biden e anche a breve atteso l'arrivo di Biden a Kiev. Che segnale potrebbe rappresentare il fatto che Biden possa andare direttamente a Kiev? La presenza di Biden a Kiev è un segnale forte non solo per la Russia, è un segnale forte anche per la Cina su questioni di lungo termine, ma in generale per quello che è considerato l'ordine liberale internazionale. Biden e gli Stati Uniti, pur non intervenendo direttamente nella guerra, stanno prendendo una posizione chiara che la sicurezza europea non sarà messa in discussione, che gli Stati Uniti manterranno i loro interessi strategici sul continente. Senta, in questa ottica io le chiedo come sta reagendo l'opinione pubblica americana alla posizione di Biden, se in realtà ci sia compattezza anche di pensiero, perché la posizione del Presidente, l'abbiamo anche detto prima, è molto netta. Ha parlato di regime change, di crimini di guerra, di dittatori da sconfiggere. Insomma è come se noi fossimo un po' tornati all'arsenale della democrazia. Ecco, si torna all'America, arsenale della democrazia. È veramente così secondo lei? Sì, nel dibattito pubblico americano c'è grande polarizzazione, che fomenta ancora di più la posizione sede assunta dal Presidente Biden. In qualche modo molti osservatori lamentano il fatto che si sia ritornati a un linguaggio da guerra fredda. Purtroppo la retorica inevitabile nei confronti delle atrocità commesse dai russi costringe chi ha interesse, come il Presidente Biden, in generale gran parte dell'establishment americano, chi ha interesse a mantenere il sistema di sicurezza internazionale che gli Stati Uniti hanno fondato a partire dalla guerra fredda. Quindi in parte quella retorica è quasi inevitabile. Però c'è polarizzazione nel dibattito politico americano e c'è chi, per esempio, sostiene un nuovo isolazionismo americano e che gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi del tutto dai propri interessi europei e globali. A questo punto c'è anche da chiedersi se questo sia un momento storico di grande segnale, ma anche di spaccatura rispetto al prima e al dopo, perché proprio questo conflitto in Ucraina e anche la posizione di Biden potrebbe segnare la nuova era della politica estera americana. In una nuova ottica, ecco, che lei prima stava appunto menzionato, stava raccontando, stava anticipando. Senza dubbio. Sono giorni in cui si rifà l'Europa e sono giorni in cui si potrebbe rifare l'ordine internazionale. Quindi non solo un cambiamento dei scenari geopolitici, c'è molto altro. Senza dubbio. Potrebbe essere davvero uno spartiacque sul futuro politico dell'Europa e sul futuro della politica estera comune europea, ma anche sulle norme che regolano l'ordine liberale internazionale. Alla fine la Russia e la Cina stanno mandando un segnale forte agli Stati Uniti e agli alleati degli Stati Uniti sul cambiamento, quello che loro vorrebbero fosse un cambiamento delle norme dell'ordine internazionale. Oltre a quello delle norme di cui lei parla, anche un cambiamento ideologico, le chiedo? Da un punto di vista ideologico c'è sicuramente un attacco al fondamento liberale di questo ordine internazionale, senza dubbio. Senta, in questa ottica l'Europa si trova però ad essere schiacciata non solo dalle superpotenze, ma proprio da una politica così interventista da parte degli Stati Uniti. Sì, l'Europa non ha molte alternative perché per gran parte della propria storia recente la propria sicurezza è stata garantita dagli Stati Uniti. Quindi le alternative sono due, o l'Europa si dota di una politica di sicurezza comune, una difesa comune di cui lei prima parlava, sì. Oppure resta soggetto di questi confronti di potenza, queste competizioni di potenza tra gli Stati Uniti e la Russia oggi e un domani tra gli Stati Uniti e Cine. Perdendo totalmente il proprio peso specifico, in questa ottica però, lei lo ricordava prima, dovremmo avere un'Europa compatta. In realtà l'Europa non la ritroviamo compatta anche sul tema dell'embargo del petrolio che per l'appunto spacca il fronte europeo con il rifiuto da parte di Ungheria e Slovacchia e questo però che cosa comporta? Se non c'è compattezza, questa situazione potrebbe fornire un vero e proprio assist a Putin. Certamente, infatti in questi giorni sarà una questione di lavorare un compromesso, trovare un compromesso politico all'interno dell'Unione Europea, dare la possibilità a quegli Stati che dipendono maggiormente dal petrolio russo di... Ma come garantire anche gli stessi... La possibilità di un compromesso inizialmente sarà basata su delle esenzioni date a questi Stati che dipendono maggiormente dal petrolio russo e quindi dargli più tempo per adattarsi alla mancanza dell'approvvigionamento russo. Ma è importante, come diceva lei, che eventualmente si trovi una compattezza. È necessario in questa ottica, sempre di compattezza, gli scenari geopolitici sono in continuo cambiamento e ancora non hanno trovato appunto la loro stasi, il loro equilibrio e c'è anche il possibile allargamento alla NATO da parte di Svezia e Finlandia. Ora io le chiedo se questo aspetto potrebbe essere una buona, ottima notizia anzi per l'Occidente oppure potrebbe sollecitare, anzi accelerare il conflitto? Ci sono due scuole di pensiero. C'è chi crede che l'espansione della NATO rappresenti sempre una minaccia per la Russia e quindi un potenziale per il conflitto. Io appartengo a una differente scuola di pensiero. Io credo che la NATO sia stata, pur con delle limitazioni, sia stata una forza di sicurezza e di pace nel contesto, nel continente europeo. Finlandia e Svezia sono già da tempo vicine alla NATO, supportano operazioni militari della NATO con equipaggio già da tempo e sono parte del Partenariato per la Pace, che è un programma della NATO esteso a non membri ufficiali. Quindi, di fatto, io credo che non si può smentire la politica di espansione della NATO che è basata su questa idea della porta aperta. Se Svezia e Finlandia hanno desiderio, un desiderio che, visto quello che sta succedendo in Ucraina, sembra abbastanza legittimo, se hanno desiderio di unirsi, non credo ci siano ragioni strategiche contrari. Intanto però dobbiamo ancora aspettare, perché questo anche potrebbe in realtà determinare o l'allargamento del conflitto, oppure effettivamente permettere all'Europa e alla NATO appunto di restituire rispetto positivo all'Occidente, ma in questa ottica, lei prima menzionava anche la Cina, la Cina che resta, sembrerebbe ad oggi, la più grande incognita di questo conflitto. Basta questo per restituire l'immobilismo della Cina e quindi resta fuori dalle parti, dallo scacchiere della guerra, oppure c'è una nitrologia dietro di lei, perché ci sono comunque degli scopi, dei fini commerciali che la Cina ha nei confronti degli Stati Uniti, nei confronti della Russia e nei confronti dell'Europa, quindi attende quelli che possono essere gli scenari e poi da lì posizionarsi. La Cina inizialmente aveva un atteggiamento favorevole nei confronti della guerra perché rappresentava una minaccia all'ordine globale liberale americano. Adesso l'impressione è che ci sia una certa reticenza perché la Cina è più integrata nell'economia globale e le pressioni che questa guerra sta mettendo sull'economia globale eventualmente hanno degli effetti ovviamente anche sulla Cina. Quindi secondo me la Cina è la chiave veramente del conflitto perché la Cina è anche il paese che in questo momento dà una certa sicurezza ai russi che possono continuare nella propria... E' così detta in giro avere le spalle coperte, no? Esattamente, esattamente. Letteralmente, geograficamente parlando. Senta, però la posizione della Cina è anche un po' frenata, come dicevo prima, dal fatto che ci sono degli scenari economici in campo, quindi delle perdite la Cina poi potrebbe riceverne magari non su medio periodo ma su lungo periodo. Quindi qual è poi la pericolosità? Si da un lato si schiera riguardo la Russia però poi successivamente perde l'altra parte? Sì, sul lungo periodo è un calcolo molto rischioso da parte della Cina perché appunto quando gli alleati degli Stati Uniti hanno dimostrato di poter esercitare delle pressioni economiche forti sulla Russia, hanno dimostrato che nel lungo periodo potrebbero fare lo stesso nei confronti della Cina. E quindi quello rappresenta una minaccia strategica di lungo corso di cui i cinesi devono tenere conto. E invece sul versante asiatico il Giappone che ruolo riveste? Il Giappone è un alleato strategico fondamentale degli Stati Uniti, ovviamente teme l'ascesa della Cina sullo scacchiere internazionale e vede questa alleanza di mantenimento dell'ordine liberale internazionale in modo favorevole perché tiene a bada gli interessi cinesi anche nell'est asiatico. Senta, naturalmente noi scongiuriamo che possa esserci una terza guerra mondiale ma secondo i suoi studi, secondo le sue esperienze, lei che è esperto di politica estera americana e di politica estera, gli avvenimenti, quelli che stiamo raccontando potrebbero preannunciare un serio conflitto mondiale, il terzo? Ci sono i presupposti perché ciò possa accadere realmente secondo lei? In questo momento c'è grande pericolo ma non vedo dei presupposti concreti per una terza guerra mondiale, ma molto dipenderà dai leader. Se per esempio ci sarà una nuova presidenza Trump negli Stati Uniti a breve termine. Arima ha avuto un comportamento e atteggiamento diverso di Trump rispetto a Biden già proprio dall'inizio dei giorni del conflitto. Sicuramente. La presidenza Trump era molto scettica nei confronti della Nato e accomodante nei confronti delle insicurezze della Russia. dipenderà da Putin che in questo momento ha perso un po' la bussola da un punto di vista strategico, alcuni dicono anche in termini più concreti che pare sia malato, ma da un punto di vista strategico ha commesso degli errori gravi. E quindi questo può condurre a un'escalation di sicurezza, di problemi di sicurezza che diventa rischiosa. Però nel concreto, a meno che la Russia non decida di invadere un paese nato, un membro nato, cosa improbabile, non ci sono credo al momento i presupposti. I presupposti. Semplicemente adesso si pensava di una guerra lampo, cosa che non è accaduto, quindi stabilizzando Putin. Una guerra che però adesso si sta appunto proiettando su un lungo periodo. Stiamo parlando dello scenario bellico e quindi di queste grandi superpotenze. stiamo parlando dell'Europa, ma andando ad un percorso ancora un po' più reduttivo. L'Italia in questo contesto che peso ha, ma soprattutto che ruolo assume? Perché lei parlava appunto prima di leader, l'importanza anche di leader all'interno dell'Europa stessa, laddove il presidente Macron è risultato il miglior interlocutore rispetto agli altri leader dell'Europa per confrontarsi con Putin. Ma l'Italia che ruolo assume? Come viene anche vista, secondo lei, da fuori? L'Italia è in una posizione delicata perché è tra quei paesi che dipende maggiormente dall'approvvigionamento energetico russo. Però abbiamo un vantaggio che il nostro attuale primo ministro è considerato a livello internazionale un leader di stampo europeo. Infatti il primo ministro Draghi ha parlato di un nuovo federalismo europeo di tipo pragmatico, proprio come di una soluzione per questo problema atavico che l'Europa ha di dipendenza costante dal gigante americano. È vero, ma al contempo però Draghi sollecita l'Europa, finché l'Italia e l'Europa stessa poi abbiano un peso specifico, un ruolo importante all'interno di quello che possa essere la risoluzione del conflitto, la soluzione di pace. Potrebbe avere un ruolo importante, ma significherebbe andare contro degli interessi purtroppo strategici di breve termine, per cui l'Italia ancora dipende troppo, troppo dal gas, soprattutto dal gas russo. In conclusione, secondo lei riusciremo, ecco l'Italia, l'Europa, sì, ma l'Italia riuscirà a rendersi totalmente indipendente dalla fornitura di gas russo? Non so se totalmente, ma credo, sono fiducioso, credo sia questa sia un'ottima occasione per accelerare quell'indipendenza e soprattutto per andare verso opzioni più consone al problema del cambiamento climatico. Non solo un'indipendenza dal gas russo, ma un'indipendenza dal gas e dal petrolio. Esatto, per dare vita a quelle che sono le sfide energetiche su cui in realtà si stava già puntando, ma magari la guerra purtroppo ci ha permesso appunto di ripensarle in un'ottica più dinamica, più veloce, in tempistiche. Il suo augurio? Il mio augurio è che la guerra finisca il prima possibile, che l'Italia giochi un ruolo decisivo, l'Italia e l'Europa giochi un ruolo decisivo nei negoziati di pace. Ed è quello che ci auguriamo anche noi. Intanto grazie di essere qui con noi, perché lei si trova a Harvard University, ma oggi si trova qui con noi a Mattina Live. Grazie a professore Sergio Imparato, docente di filosofia politica e politica estera americana, come dicevo prima, presso la Harvard University. Grazie davvero, complimentissimi. Noi ci ritroviamo subito dopo la pubblicità, restate con Mattina Live. Grazie a tutti.